Io sono molto soddisfatto per l'iniziativa che andiamo oggi a concretizzare con la firma di questo protocollo d'intesa. Viviamo in un territorio di grande cultura e di grande coesione sociale e in questo contesto ben si inquadra quello che andiamo oggi a concretizzare. E consentire ai migranti richiedenti asilo un'attività di volontariato, permettere e pianificare un'attività di volontariato, costituisce secondo me un'occasione straordinaria di integrazione per queste persone che ovviamente in questa maniera possono partecipare attivamente alla vita collettiva della nostra comunità compiendo lavori socialmente utili. Oggi firmiamo presso la prefettura di Terni un importante protocollo d'intesa grazie al quale i comuni che ospitano migranti e richiedenti asilo potranno chiedere loro di svolgere attività volontarie a favore della comunità. Le attività verranno definite in seguito, la nostra idea è di impiegarli per lo spazzamento delle strade e per la cura del decoro urbano. Non possiamo negarci che il sentimento generalizzato delle persone spesso è un sentimento di disagio verso il fenomeno dell'immigrazione e credo che le istituzioni abbiano il compito non di buttare benzina sul fuoco ma di trovare progetti che possano invece avvicinare anche ciò che adesso sembra molto lontano. Vedere i migranti che si impegnano per la comunità e fanno dei lavori volontari a favore dei cittadini è secondo noi un modo istituzionale per far capire ai migranti che arrivare in Italia significa avere il diritto ad essere integrati ma anche il dovere di volersi integrare e significa dire ai cittadini che forse molti pregiudizi sono sbagliati e che queste persone hanno veramente voglia di integrarsi tra di noi. È una giornata molto importante anche per il nostro comune piccolo in cui abbiamo accolto quattro migranti perché grazie alla regia della prefettura andiamo ad affirmare un protocollo d'intesa che è stato sollecitato più volte anche dalla nostra amministrazione in quanto pensiamo che fare integrazione è soprattutto cercare di coinvolgere il più possibile queste persone con la cittadinanza. Noi come amministrazioni abbiamo messo in atto un corso italiano che è stato fatto presso il comune di Lugnano e questo è stato un primo momento di approccio con queste persone che sono entrate in punta di piedi e si stanno mettendo a disposizione per la nostra comunità. Noi cercheremo di metterli in possesso di tutti gli strumenti idonei e soprattutto di renderli autosufficienti e insieme alle persone del posto integrarli nelle attività culturali che faremo nel nostro paese.